Il nostro ciclo di conferenze che accompagna la mostra dei visi mostruosi e caricature da Leonardo da Vinci a Francis Bacon, una mostra che durerà poco meno di un mese per cui consiglio per chi non l'abbia ancora visitata di vederla perché ci sono dei tesori incredibili che arrivano da istituzioni, anche insomma come quelle di cui andremo a parlare oggi, davvero molto speciali che poi torneranno nelle loro sedi, nelle loro case e rimarranno al buio pensate per tre anni, poi la professoressa Alberti ci racconterà anche perché e come funziona. Questa mostra il cui titolo appunto Devisi mostruosi nasce innanzitutto il significato Devisi mostruosi non parlo perché facilmente si tengono a mente. Questa frase dice Leonardo da Vinci verrà riportata poi in quello che è il trattato della pittura dello stesso Leonardo e il Codice Atlantico e significa proprio il fatto che inizia un genere ossia studia Leonardo questi moti dell'animo e come dirà poi il Baldinucci vengono caricati in alcuni tratti fisiognomici del volto ad esprimere appunto moti dell'animo, vizi e virtù morali. Questa mostra nasce per un nucleo di caricature presenti nella collezione di mio padre Giancarlo, Giancarlo Ligabue, un nucleo di dodici caricature che sono presenti in mostra di Tiepolo. Lui era un grande appassionato appunto di questi disegni e dell'artista ovviamente e quindi e poi ovviamente per questa testa di vecchia che diversi autori attribuiscono a Leonardo da Vinci e quindi abbiamo iniziato a pensare a questa mostra. Questo è il terzo appuntamento del ciclo appunto di conferenze con la professoressa Alberti che ci parlerà appunto di queste caricature di Tiepolo. I prossimi appuntamenti sono con Paola Cordera sabato 15 sempre qui alle ore 11 quindi i collezionisti di Leonardo a Venezia e a chiudere Calvin Winner il giovedì 27 aprile che ci parlerà di Francis Bacon, questo artista inglese che è un po' diciamo fuori dallo studio filologico che presentiamo ma serve a rappresentarci la modernità di come appunto questo artista attraverso la deformazione, la destrutturazione del corpo e del volto rappresentava molto, mi vado molto vicino a Leonardo, interiorità e inconscio. Grazie davvero, lascio la parola, grazie di essere presente oggi in un sabato di sole, però sono sicuro che con la professoressa Alberti che ci parlerà di Tiepolo insomma non in questa oretta non ci pentiremo sicuramente. Grazie davvero a lei professoressa. Grazie mille. Intanto ringrazio il dottor Inti Ligabue per l'accoglienza e ringrazio il professor Marani che non è qui ma mi ha pregato di portarvi i suoi saluti e veramente il pubblico che è numerosissimo considerato che è aprile, che siamo a meno di una settimana da Pasqua ormai. Io direi, considerato questo suo cenno iniziale, prima di entrare nel vivo del racconto e quindi di mostrarvi la carellata di immagini che ho preparato, mi offre l'occasione di fare un cenno a quella che è la mia figura e il mio perché di essere qui oggi. Io sono fondamentalmente uno storico dell'incisione, quindi mi sono occupata di incisione per tutta la vita, ma da cinque anni sono anche il conservatore al gabinetto dei disegni al Castello Sforzesco, per cui la mia fortuna è il fatto di essere qui oggi non che sia un'esperta di 700 veneziano o di Tiepolo. Sono, ho la fortuna di essere il conservatore di una delle raccolte italiane che conserva il maggior numero di caricature, di una qualità altissima di Giambattista Tiepolo. È bellissimo, il mio lavoro, come diceva il dottor Inti Ligabue, io sono il custode della casa dei disegni. Il gabinetto dei disegni del Castello Sforzesco non ho pensato di mostrarvi un'immagine, è un ambiente piccolissimo, è poco più grande di questo spazio che arriva alle prime due sedie. È un deposito interamente climatizzato, estate e inverno 19-20 gradi e circa il 50% di umidità e soprattutto un ambiente buio. È della ragione per cui, appunto, dopo un periodo di esposizione di circa massimo 90 giorni, questi disegni tornano ad essere conservati in cassettiere al buio per tre anni. È il periodo che è stato calcolato per preservare dal continuo degrado le opere su carta, perché le opere su carta, a differenza della pittura, appunto sono molto più soggette al deterioramento. Quando si tratta poi di opere materiche, ma non è il caso di questi bellissimi fogli di tiepolo, c'è anche il rischio, insomma, di uno sgretolamento della materia, per cui davvero dobbiamo immaginare i disegni come i più fragili fra tutte le opere d'arte, quelli più bisognosi di una conservazione particolare. Quindi non vogliatecene, però quando vengono prestati ad una mostra come questa, e abbiamo fuori sei caricature di tiepolo, per rivederle tutte assieme occorrerà appunto aspettare ancora tre anni. Allora, adesso vengo al vivo del tema del nostro incontro di oggi. Gian Battista Tiepolo è un artista che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, specialmente qui a Venezia, dove l'artista è nato nel 1696. È un artista che tutti noi però, tutti voi, immagino conosciate principalmente come autore di dipinti, quindi di grandi affreschi, di grandi cicli, con una forte impronta narrativa, popolati da numerosissime figure, e che oggi andiamo a vedere in una dimensione totalmente diversa, una dimensione intima che è quella del disegno, dello studio. Mi limito solo a dare un termine cronologico per la sua biografia. Lui lavora appunto in tutto il nord Italia, lavora in Europa, fino a quando, nel 1762, viene chiamato alla corte del re Carlo III di Spagna. Questo per noi è un termine importantissimo perché dopo quella data non conosciamo disegni di Tiepolo. Quindi tutte le sue caricature, che si riferiscono evidentemente poi a personaggi veneziani, quindi non c'è dubbio che non siano state realizzate altrove, risalgono al periodo antecedente, il 1762. Grosso modo sono concentrate nel corso degli anni 50, quindi in un periodo in cui l'artista raggiunge la piena maturità, ma prima del periodo spagnolo. La sua carriera termina appunto a Madrid nel 1770, dove muore senza avere poi l'occasione di rientrare. Perdonatemi i pochi cenni, non voglio essere, come dire, pedante nel ricordare le date, però rappresentano davvero dei punti fermi sui quali poi possiamo ragionare. Appunto Tiepolo è conosciuto soprattutto per le sue importanti campagne pittoriche, ma quello che noi vediamo oggi è il Tiepolo dei disegni. Un disegnatore a penna e all'acquerello, ma dopo vedremo meglio come, su carte sottilissime, vedete carte vergellate, si riconoscono anche qui le vergelle in verticale della carta, delle carte a volte talmente sottili, per chi di voi avrà già visto la mostra o per chi ha avuto occasione di sfogliare il catalogo, che addirittura ad occhio nudo si riconoscono le filigrane, che sono i marchi della carta impressi in trasparenza nella carta al momento della loro fabbricazione. Quindi dei pezzi veramente straordinari, preziosi e fragilissimi. In un corpus grafico vastissimo, che è stimato intorno ai 2000 pezzi, ai 2000 disegni, i fogli selezionati per questa esposizione sono in tutto gli originali di Gian Battista, le caricature, sono in tutto 17 e afferiscono appunto al tema della caricatura, che occupa circa poco più del 10% della produzione generale dell'artista. È stimata oggi sui 300 esemplari la produzione di caricature, ma è incredibile, anche se siamo di fronte a un artista noto e importantissimo, mancano ancora dei dati sicuri, cioè un lavoro di spoglio, di cernita di tutta la sua opera grafica stenta a decollare, proprio per la quantità di opere conservate un po' in tutto il mondo e quindi difficili da censire, tra collezioni pubbliche e collezioni private. I personaggi che vediamo in questi disegni sono tutti personaggi isolati, avranno questi disegni un solo protagonista tendenzialmente. Questo rappresenta veramente un'eccezione, perché ha delle annotazioni ambientali, una sedia, un tavolo, un cappello appoggiato sul tavolo, mentre tutti gli altri mostrano generalmente le figure in piedi, di spalle, di profilo o frontali. Immagino che i visitatori più attenti tra di voi che saranno stati in mostra avranno notato che c'è un filo conduttore tra tutte queste caricature. Manca sempre l'ambientazione, ma l'unica cosa che vedrete sempre è l'ombra proiettata ai piedi di questi personaggi. Un'ombra che probabilmente non è casuale e poi vi dirò che idea mi sono fatta mentre preparavo questo nostro incontro di oggi. Ora, quindi tutti i personaggi isolati, però la sensazione che vi voglio dare, perché ecco io non sono l'esperto di questo tipo di materiale, ma mi piace riportare quelle che sono anche le specificità del nostro lavoro. Ed è bello quando accompagno queste caricature di Tiepolo alle mostre, perché tra i nostri compiti del conservatore è anche quello di accompagnare le opere alle mostre. È come se si riformassero quelle gallerie che Tiepolo aveva pensato. Cioè noi oggi vediamo il singolo foglio, siamo abituati a vederli come opere, come pezzi unici, quindi il personaggio isolato, ma nel momento in cui lui le crea, crea una quantità, crea delle centinaia di pezzi. Quindi nella sua testa sono già delle gallerie, nel suo studio costituiscono già di fatto degli insiemi, dei nuclei importanti. Non dico in dialogo tra loro come i personaggi, come appunto le scene, con la componente narrativa che hanno le sue pitture. Però c'è comunque uno stretto legame che tiene insieme tutte queste opere. L'arco cronologico nel quale si colloca questa produzione, come vi dicevo, oscilla tra gli anni 50 con qualche punta, qualche anticipazione negli anni 40. In realtà è perché ci sono delle caricature che non collimano pienamente con lo stile maturo del Gian Battista Tiepolo degli anni 50. E allora se ne suppone una datazione precedente, di questo vi mostrerò un esempio a breve, tra quelli che appunto conserviamo al gabinetto dei disegni. Tecnicamente sono tutti disegni tracciati a penna e successivamente c'è un intervento dell'artista con una tecnica che potremmo definire acquerello. In realtà semplicemente si tratta spesso dello stesso inchiostro utilizzato e steso a penna, diluito in acqua e steso a pennello, anche a ottenere degli effetti, delle stratificazioni per creare questi momenti e questo movimento chiaroscurale. Lo vedete per quanto qui l'inchiostro sia tutto nero, quello a penna, è tutto grigio, quello delle ombreggiature, ottiene comunque degli effetti, degli spessori attraverso il ripasso e attraverso la quantità di liquido che utilizza per diluire queste composizioni. Gli inchiostri che usa Tiepolo sono quello nero che potrebbe essere a base di carbonio oppure inchiostro metallo gallico, ma vedremo anche, bello più riconoscibile per tutti, il bistro che ha questo colore che tende al rosso e al giallo e che è ottenuto dalla fuligine, quindi è una ricetta tutto sommato semplice, era un materiale semplice da ottenere. Ma tra gli inchiostri che utilizza Gian Battista troviamo anche la seppia, quindi ricavato dall'omonimo mollusco. Queste sono le tecniche, come dire, condivise che erano in uso nel periodo in cui lavora. Come si colloca la produzione della caricatura all'interno del percorso di Gian Battista Tiepolo? Sono davvero una cosa straordinaria? Oppure lui, a latere di quella che è la sua produzione maggiore, quindi la sua produzione come pittore che riceve committenze da parte di privati, da parte di religiosi, ha sempre praticato qualcos'altro? La risposta è proprio questa, cioè il Gian Battista Tiepolo già dagli anni quaranta, a margine di quella che è la sua produzione maggiore, pratica una tecnica come l'acqua forte, in particolare realizza due serie di Acqueforti tra cui questa dei Capricci che si colloca appunto al principio degli anni quaranta che è emblematica, cioè il titolo stesso Capricci ci racconta del fatto di come questi sfuggano, sono proprio dei pensieri, delle idee che lui annota questa volta non direttamente sulla carta penna ma registra su una lastra che poi viene acidata, inchiostrata e stampata e quindi realizza delle vere proprie serie di incisioni, dal tema però libero, qui non ha un committente che individua un soggetto, non deve rispondere a precise regole iconografiche, per cui a volte è anche un po' ridicolo il nostro atteggiamento di storici dell'arte quando cerchiamo di inquadrare soggetti come questi entro precise categorie o standard iconografici che non hanno, forse la cosa migliore è apprezzarli per questo segno graffiante, per questa libertà compositiva e limitarci ad apprezzarne insomma la qualità. Ma le Acqueforti non sono l'unica cosa, l'unico spazio che Tiepolo vive in modo in una dimensione più personale e meno di facciata. Ci sono anche disegni come questo che risale agli anni 30 con le famose figure di Pulcinella che poi il figlio Giovanni Domenico farà proprie in tutta la sua produzione più tarda dopo il ritorno da Madrid. Anche qui è stato, dagli storici dell'arte, è stata individuata la figura di Pulcinella come un precedente delle caricature. Quale ne fosse la funzione? Noi non lo sappiamo, nel senso che non sappiamo se davvero fossero solo un divertimento suo o come ha voluto qualcuno dei soggetti che disegnava per il figlio il piccolo Gian Domenico che poi lo avrebbe affiancato a bottega. Ecco, magari chi di voi appunto oggi si è ritagliato del tempo per venire a una conferenza si potrebbe aspettare delle risposte. In realtà il lavoro dello storico dell'arte molto spesso è quello di mettere insieme, di formulare delle ipotesi, di portarle al vaglio, di discuterle con i colleghi senza mai arrivare a una risposta definitiva. E questo è un pochino il mio approccio al lavoro, ecco. Avendo accennato appunto a come la caricatura corrisponde in un certo senso a questa istanza privata, di una dimensione privata dell'arte in Gian Battista Tiepolo, dobbiamo anche fare un cenno, cioè pensare che non approda alla caricatura in modo autonomo. È una moda, è un genere che viene molto praticato a Venezia. So che appunto tra gli incontri precedenti ce n'è stato uno con il professor Lucchese dedicato ad Anton Maria Zanetti e quindi si colloca in un contesto ben preciso. Però qui non riesco a trattenermi dal farvi notare che quel disegno nero che si nota in basso, quelle righe orizzontali che vedete, che hanno come terminazione dei piccoli cerchi, sono le filigrane che vi dicevo prima, sono carte talmente sottili, immaginatele, di consistenza di una carta velina. E quindi quando si sollevano in trasparenza normalmente si vede la filigrana, ma qui è una carta talmente leggera che la si vede addirittura in fotografia, perché dove è la filigrana lì lo spessore della carta è ancora più, è ancora più sottile. La figura appunto è un pezzo che si trova in collezione privata e che vedete esposto e che mi piace accostare a questo foglio di Anton Maria Zanetti. L'immagine alla vostra sinistra è quella di Anton Maria Zanetti, che si trova nel foglio 42 dell'album che oggi è conservato alla Fondazione Cini qui a Venezia. Mi pare ovvio, cioè è stata evidenziata da tutti la distanza tra l'intento che muove questi due personaggi. Anton Maria Zanetti è un artista dilettante, non si può certo paragonare agli esiti altissimi che ottiene anche in questa tecnica il Gian Battista Tiepolo. Però è particolarmente significativo perché è un personaggio che è assolutamente radicato in quello che è il tessuto non solo veneziano a Zanetti, ma addirittura internazionale. È in contatto con i maggiori collezionisti di stampe, con i maggiori collezionisti di disegno del tempo. Ed è colui che acquista a Venezia l'intera serie delle incisioni di Jacques Allot, di cui qui ho mostrato solo il frontespizio, ma che dovete immaginare come una serie di ventiacqueforti che isolano, così come farà poi anche Tiepolo, queste figure di gobbi sulle pagine. È un'intuizione recente del professor Marani quella di aver messo in relazione, come diretto precedente per le caricature di Zanetti e poi naturalmente per quelle di Tiepolo, l'acqua forte di Callot. Il gobbo in effetti si è da sempre prestato a questo tipo di rappresentazione, però già da qui mi sembra evidente lo spirito diverso. Zanetti spesso rappresenta personaggi del suo tempo e non solo si limita a renderli ben riconoscibili attraverso le loro caratteristiche fisiche, ma se ciò non bastasse aggiunge anche delle didascalie per identificare il personaggio sul quale si sta concentrando. Al contrario, Tiepolo è come se realizzasse, ora rapportato un po' ai nostri tempi, io lo immagino come un database delle tipologie umane, del diverso professionista, dei personaggi dei diversi strati sociali, quindi senza un giudizio, senza un accanimento, senza intento satirico, lui davvero rappresenta questo mondo di diversità, di personaggi. Il foglio al quale pertiene la caricatura che noi abbiamo visto adesso della figura di spalle ci dà modo di introdurre un altro aspetto fondamentale. Come vi dicevo, noi oggi, anche sul mercato, adesso sono stata settimana scorsa a Parigi al Salone del Disegno, capita di vedere una caricatura di tanto in tanto di Tiepolo, quindi li vediamo tutti come fogli isolati, ma sia gli artisti, sia poi i collezionisti, specialmente nel Settecento, praticano moltissimo l'uso di raccogliere all'interno di volumi le opere a disegno e anche le opere a stampa. Purtroppo il caso di Zanetti è un caso eccezionale, cioè il fatto che si siano mantenute integre queste unità è un caso più unico che raro, perché nel tempo, soprattutto per esigenze di tipo commerciale, quindi di vendita, di smercio delle opere, anche alle aste, i volumi venivano smembrati, oppure, come accade, questa è una cosa che mi cruccia, perché è accaduta al gabinetto dei disegni e oggi ci complica enormemente la vita, all'ingresso di queste opere in volume all'interno dei musei, il conservatore, il direttore del tempo, reputava di doverli smembrare per raccogliere le opere in ordine alfabetico d'artista. Quindi ci ritroviamo, come dire, quando siamo fortunati esistono delle documentazioni fotografiche, quando non abbiamo documentazioni fotografiche, come nel caso di Tiepolo, possediamo per fortuna solo la descrizione accurata, analitica, di alcuni cataloghi d'asta. Ecco, tra i meriti che ha questa mostra c'è anche quello di vedere riunite quattro caricature, che vi dico, non è una cosa così semplice e scontata, provenienti dallo stesso insieme, dallo stesso volume. Era l'aprile del 1943, c'è un'asta Christie's a Londra, dove viene messo in vendita questo tomo terzo dei caricature, che conteneva in tutto 106 fogli incollati a due a due su 53 pagine. Purtroppo, all'asta, questi fogli furono assegnati a nove persone diverse, quindi divisi in nove lotti diversi. Ma poi, all'interno delle collezioni, dove questi disegni sono approdati, a loro volta si sono divisi, sono partiti, è come se fosse iniziata in quel momento lì la separazione. Ed è eccezionale che almeno quattro oggi siano tornati a essere tutti insieme. Questo, devo dire, esemplifica in maniera straordinaria quello che vi dicevo prima, e cioè quel campionario delle figure umane che senza giudizio, ecco, Tiepolo raccoglie. Nel primo abbiamo il personaggio con lo zuccotto seduto, con la sedia, ma vi dicevo, la maggior parte delle volte la notazione ambientale proprio non c'è, non sussiste. Ha in mano un libro, quindi potrebbe riferirsi alla categoria degli eruditi, indossa anche gli occhiali, però potrebbe anche essere un professore. Il secondo, invece, sembra quasi un divertimento, dove porta a rendere sottile, a stilizzare massimamente questa figura di giovane nobile con lungo cappotto, spadino e tricorno, ed è una delle tipologie in assoluto più ricorrenti. Però la vedete come la declina nelle due immagini successive, cambiando l'età del personaggio, ma soprattutto devo dire così accostate la terza e la quarta figura sembrano quasi formare un'onda o una diagonale per quella che è l'evidenza delle loro deformità. In un caso, quindi, una pancia prominente e nell'altro caso il tema invece più ricorrente che è quello della gobba sulle spalle. Ora, questa serie appunto che viene qui ricostituita non è l'unica straordinaria occasione che avete di vedere nella mostra in corso, perché c'è un altro antico insieme che era già attribuito, ritenuto appartenere ai conti Valmarana di cui ci sono ben due esemplari. Noi non sappiamo di quanto consistesse, mentre dell'altro abbiamo una descrizione, 1943, i fogli erano 106. Qui non sappiamo quale fosse la consistenza originale di questo nucleo, ma lo vedete dai tagli che hanno le opere che facevano parte dello stesso nucleo. tra l'altro questi tagli diagonali voi li vedrete sulla maggior parte dei fogli che oggi vediamo e anche di quelli in mostra. Anche qui ci sono ipotesi, non certezze a riguardo. Qualcuno ha pensato che fossero stati asportati gli angoli perché contenevano degli elementi, magari dei marchi di collezione piuttosto che delle iscrizioni che dovevano essere eliminate. Altri hanno addirittura supposto che si trattasse di una scelta di tipo estetico e quindi come nel formare una galleria all'interno della propria collezione si sceglie lo stesso tipo di cornice magari declinato in modo lievemente diverso è come se fosse stata scelta questo tipo di incorniciatura e quindi di taglio degli angoli e ripassatura di tutti i bordi del disegno una delle ipotesi secondo me ecco lo dico anche da conservatore per l'esperienza che ho più credibili è che invece questi fogli fossero fissati ai quattro angoli a qualche supporto e al momento del distacco come poi avveniva sempre per eliminare le tracce di questo distacco che lo vedrete in un caso in uno dei fogli Morelli ha procurato insomma delle lacune necessariamente in quel punto venivano tagliati ecco quindi può essere che la ragione estetica sia semplicemente per mascherare un danno che oggettivamente questi avevano riportato quindi lo stesso Tiepolo probabilmente conservava all'interno di volumi queste sue opere il fatto che il volume il tomo passato all'asta crisis nel 43 portasse l'iscrizione tomo terzo iscrizione antica dei caricature aveva fatto pensare che ce ne fossero almeno altri due di tomi dei caricature ma devo dire che tutti i testi in catalogo del professor Lucchese sia il saggio introduttivo che poi le schede con grande prudenza riportano un pochino con i piedi per terra quelle che sono invece le situazioni più probabili non è detto che i precedenti due tomi fossero entrambe di caricature è possibile che in una sequenza il libro primo dei studi religiosi non so di immagini religiose il secondo di qualcos'altro e che semplicemente dei caricature fosse la specifica di quello che era il contenuto solo di quel terzo di quel terzo volume ora noi sappiamo che questi tagli comunque che vedete anche qui sono qualcosa di molto antico qualcosa che sicuramente precede gli anni 20-30 dell'ottocento quindi subito dopo la morte del Giandomenico Tiepolo perché alcuni di questi fogli hanno la fortuna di entrare subito in musei in collezioni quindi sappiamo che non sono stati più toccati non sono stati più tagliati quindi questo già è un primo dato significativo ma venendo a questo nucleo io ho lasciato i Conti Valmarana in alto ma questo non è affatto corretto lo motiva molto bene il professor Lucchese nei suoi contributi e nelle schede su queste opere un tempo erano ritenuti provenire da un nucleo dei Conti Valmarana di Vicenza perché quasi tutte le caricature che abbiamo di Giambattista risalgono al periodo in cui lui stava lavorando agli affreschi nella loro villa a Vicenza siamo intorno al 1757 quindi è pienamente coerente il titolo tuttavia c'è la prova che questi fogli non potevano essere rimasti dal 1757 di proprietà della famiglia perché negli anni 90 quando Gian Domenico torna dopo la morte del padre da Madrid torna a Venezia torna nella sua bottega si riappropria di questi fogli si riappropria di queste figure e queste figure compaiono nei suoi disegni degli anni 90 vuol dire che sono disegni che comunque fino alla morte di Gian Domenico nel 1804 rimasero tutti quanti all'interno della bottega di Giambattista e poi appunto degli eredi quindi non possono essere usciti prima d'altro canto chi ha esaminato meglio queste chi ha avuto l'opportunità di esaminare le carte su cui questi fogli sono incollati e si vede bene in questo caso la carta che poi a sua volta riprende il motivo della cornice ha stabilito che sono carte di primo 800 non sono carte settecentesche quindi non sarebbe neppure coerente cronologicamente per cui è affascinante pensare che questo album fosse appartenuto ai conti Valmarana ma non ci sono le prove ecco anzi ci sono prove del contragio direi in questo in questo momento d'altro canto che un'ulteriore prova che nell'ottocento circolassero volumi dove erano raccolte le caricature di Tiepolo lo abbiamo anche dalla descrizione da un catalogo del 1854 della collezione Corniane Algarotti dove si leggeva di due grossi libri che contenevano una copiosa collezione di disegni umoristici del Tiepolo attenzione però perché appunto corrispondono in effetti a questa descrizione anche i disegni del figlio di Gian Domenico quindi non è detto che questi disegni umoristici fossero necessariamente tutti di Gian Battista né che fossero necessariamente delle caricature potevano essere altri soggetti appartenenti appunto alla produzione del figlio ed eccoci finalmente alla figura del figlio di Gian Domenico l'opera non è presente in mostra però è un'opera assolutamente significativa rispetto a quanto ci siamo detti e rispetto alla permanenza dei disegni del padre nella bottega del figlio quindi immaginiamo la bottega viene chiusa nel 62 quando i due partono per Madrid viene riaperta nel 70 quando Gian Domenico torna ma sono soprattutto gli anni 90 quelli in cui lui diventa veramente un fervido disegnatore un eccezionale disegnatore devo dire tra i due non saprei veramente chi scegliere questo è un foglio particolare un foglio originale non si conosce una caricatura di Gian Battista con queste fattezze ma si presume che esistesse perché al momento non è provata un'attività di Gian Domenico come autonomo caricaturista più spesso Gian Domenico effettua questo tipo di operazione cioè recupera le immagini che il padre aveva effigiato in maniera isolata e le inserisce all'interno delle sue composizioni però ci tenevo mi sono fatta un pensiero mentre stavo montando anche queste queste immagini vedete l'unico intervento che fa in questo caso Gian Domenico cambia la fonte di luce cambia la posizione dell'ombra vi ho detto se fosse che l'ombra non mi era risultata un elemento importante non ci avrei prestato attenzione ma per il fatto che l'ombra c'è sempre qui però ve lo anticipo sto uscendo dal seminato nel senso che non ci sono posizioni non ci sono testi critici che abbiano preso in considerazione questo aspetto è una mia è un mio pensiero una mia riflessione e vedete cioè non è che la recepisce in modo banale la mette ai margini della composizione però cambia completamente la fonte di luce non è più illuminata la schiena è illuminato davanti quindi c'è uno studio della luminosità mi domando se nel formare questa collezione di caricature il Gian Battista non avesse in mente proprio di lasciare all'interno della sua bottega come un repertorio di immagini dove non è solo per motivi estetici che ci sono queste acquarellature stratificate ma c'è uno studio della luce straordinario e al figlio basta riprendere la stessa figura cambiare la posizione delle ombre per poterla comporre in un'altra maniera non che non stimasse il lavoro del figlio perché in tutte le cose che si leggono cioè ed è tanta la letteratura chiaramente sui due e c'è anche che le avesse realizzate come modelli esattamente per il giovane Gian Domenico lasciando una libertà perché chiaramente la bellezza dei disegni di Tiepolo la vedete qui i segni sono pochissimi la caratteristica è che non ci sono a differenza di qua in Gian Domenico dove vedete che c'è un ripensamento sotto il volto ok è chiaro che sta copiando è chiaro che c'è una fase di studio i disegni di Gian Battista appartengono a una categoria a parte non so per chi di voi ha familiarità con il disegno i disegni grossomodo si distinguono in categorie in base a quella che è la loro funzione quindi c'è il disegno che l'artista giovane fa per studiare dal vero per studiare per imitare la realtà per imitare altri artisti c'è il disegno preparatorio che l'artista fa funzionale un dipinto una scultura insomma una composizione maggiore e ufficiale e poi c'è il disegno finito c'è quel disegno che l'artista fa non si sa bene perché ed è pronto così per essere incorniciato a una sua autonomia una sua bellezza questo non solo corrisponde alla tipologia del disegno finito ma corrisponde anche al disegno estemporaneo cioè non c'è una preparazione sottostante a matita eppure Tiepolo guardate bene nei disegni preparatori per i suoi dipinti lavora moltissimo a matita perché la prima idea la vai a fissare a matita lo diceva già Cennini nel 300 disegnare a penna non è facile perché la matita facilmente la si poteva asportare anche solo della mollica di pane il disegno a penna non prevede un ripensamento nel momento in cui lo si traccia è definitivo non c'è modo di cancellarlo ed è in questa ottica che dovete vedere questi disegni e la loro e coglierne la loro bellezza pochissimi segni sicuri e sistemati lì già il domenico chiaramente nel recepire diventa molto più pesante il segno diventa controllato ma lo vedremo ancora meglio in un esempio che adesso vi mostro io ne ho scelti un paio giusto questo che era particolarmente evidente e quest'altro che non è così evidente vi aiuto a riconoscere la figura dell'uomo che abbiamo visto prima dal tomo terzo delle caricature all'interno del pubblico di questa composizione di Gian Domenico del 1791 il il canta storie se poi volessimo andare non so se avete fissato nella mente anche quelle figure di spalle sempre dell'uomo con il tricorno e il cappottone lungo corrispondenze all'interno delle caricature del padre se ne possono trovare diverse anche all'interno di una di una composizione come questa ma devo dire che una delle occasioni più importanti che offre la mostra e di questi esempi vi dicevo ce ne sono a decine cioè è sufficiente davvero adesso con un occhio un po' come dire attento andare a cercare delle corrispondenze tra le figure singole del Giambattista e queste composizioni ricchissime di Giandomenico è un è un aspetto quello della recezione quella della fortuna delle composizioni che affascina moltissimo noi storici dell'arte che ci divertiamo a ricostruire queste famiglie delle derivazioni tra madre padre figlio e tutti questi e tutti questi discendenti ma non è un gioco banale perché comunque evidenzia anche in questo caso e porta le prove del fatto che a distanza di 40 anni da quando il padre le aveva disegnati continuano ad essere un punto di riferimento sicuro e importantissimo anche per la produzione del figlio quindi una fortuna che tiene nel tempo semplicemente con qualche modifica con qualche declinazione ma tra i meriti della mostra c'è sicuramente quello di avere messo una accanto all'altra queste due queste due prove con una rivisitazione anche dell'attribuzione del secondo foglio quello più a sinistra è conservato al gabinetto dei disegni con la destra è un foglio in collezione privata il soggetto l'avevo messo anche in apertura perché devo dire a differenza degli altri offre una quantità di elementi e poi ha avuto delle letture critiche bellissime per cui è indicato come quello che a testa alta sta inseguendo una melodia sta ascoltando della musica mentre con le dita si picchietta il ginocchio e nell'altra mano tiene uno spartito ora quanto di vero ci possa essere non so e quanto invece afferisce un pochino all'ambito della suggestione sta di fatto che è una delle sue composizioni sicuramente dal punto di vista della caricatura più riuscite quando è stata pubblicata nel 2005 l'immagine che sta ora alle mie spalle era stata classificata come una replica d'artista accade spesso che gli artisti non solo facciano un disegno ma facciano addirittura una replica esatta della loro composizione per le più svariate ragioni può essere che mi devo separare dal disegno ci tengo e quindi effetto mi faccio una copia specie prima della nascita della fotografia e specie se ho una bottega dove queste opere possono rimanere essere riutilizzate quindi quest'opera era originariamente ritenuta un'altra versione fatta dal Gian Battista ma appunto nella scheda di Enrico Lucchese adesso la trovo classificata come una copia antica il che la rende ancora per assurdo più interessante perché un conto è il Gian Battista che copia se stesso un conto è il Gian Domenico che si riconosce benissimo come stile come linguaggio che copia il padre ma pensare a una fortuna presso i contemporanei vuol dire che altri potevano accedere a questo repertorio che è il repertorio di bottega però immaginiamolo sempre come un repertorio privato quindi una copia antica e coeva del disegno originale di Gian Battista voi direte ma come si fa a dire che uno è originale e l'altro è la copia l'abbreviatura come dire la rapidità la sintesi del disegno originale di Gian Battista deriva proprio dalla velocità con cui lui esegue e appunta il suo pensiero nell'altro caso invece è una sintesi più controllata se voi guardate è proprio quel tentennamento della mano del segno penso solo a un dettaglio come la parte alta del braccio e della manica dove l'inchiostro di Tiepolo si va a spaldare anche a contatto poi con con la querellatura mentre di là questo effetto viene imitato lo vedete da una parte il segno si allarga perché è la penna che li indugia di più e che lascia un segno più largo di là è imitato è quasi ripassato quindi la differenza tra le due non dico che sia semplice da cogliere tutt'altro richiedono cioè chi di voi è più vicino magari al mondo del disegno perché lo colleziona perché lo studia avrà modo più facilmente di cogliere queste cose però si tratta assolutamente di dettagli che individuano da una parte un originale e dall'altra parte una sua derivazione con tutto vi dicevo una cosa davvero straordinaria l'esistenza di una copia antica dalla composizione di Tiepolo tra gli aspetti insomma della fortuna della tra gli aspetti come dire che noi esaminiamo per valutare la fortuna di un artista c'è il momento in cui le sue opere entrano nei musei e il primissimo esempio risale pensate al 1821 siamo a Montpellier quando questo personaggio Xavier Ager affida alla biblioteca dell'università della facoltà di chirurgia e di medicina due quattro caricature di Giambattista Tiepolo e sono le prime che entrano in un museo le seconde avete la fortuna di averle qui a Venezia perché sono due fogli che Teodoro Correr lascia appunto al museo che sono rimasti lì e questo è un aspetto abbastanza studiato l'aspetto che invece non ho trovato indagato per quanto appunto vi dico gli studi siano numerosissimi riguarda la fortuna espositiva di Tiepolo che probabilmente comincia tardi ma che mi piace immaginare corrisponda proprio al nucleo che conserviamo noi al gabinetto dei disegni del Castello Sforzesco a Milano abbiamo otto in tutto abbiamo otto caricature di Tiepolo di cui sei sono presenti in mostra ho evidenziato con l'alone giallo quelle che non sono non sono presenti in mostra per una scelta immagino curatoriale di spazio e in un caso devo dire la condivido anche anche con convinzione ecco nell'altro caso sono quattro opere divise in due gruppi ciascuno di quattro pezzi questo pezzo lo vedete in basso alla vostra destra ha sempre questo timbro con una lettera M che lo vedete lo ha ingigantito lì in alto che è il timbro della collezione Morelli perdonate queste mie incursioni però come qualcuno sa mi porto dietro anni di insegnamento in università proprio di quelli che sono gli elementi e i modi e i metodi di studio e dall'altro quello che è l'esperienza del nostro lavoro quotidiano ma chiunque di voi si imbatta in un disegno che presenta un timbro o un marchio di un collezionista farà riferimento a questo strumento straordinario che è il titolo era il titolo di un repertorio stampato di un volume uscito per la prima volta nel 21 e poi integrato nel 1956 e che oggi abbiamo la fortuna di avere disponibile online sul sito della Fondazione LUPT che ci permette attraverso la descrizione se io voglio sapere a chi corrisponde un marchio che ha le lettere MO inserisco questo dettaglio e ho il corrispettivo chiaramente di MO me ne saltano fuori una ventina tra questi individuo il mio il marchio in questione è quello di Giovanni Morelli che tutti conoscerete immagino non tanto come medico come senatore del Regno d'Italia quanto piuttosto come collezionista storico d'arte tant'è che a lui è associato l'inventore del cosiddetto metodo morelliano cioè lui comincia a osservare a raccogliere in una serie di appunti tutte queste osservazioni rispetto al modo identico che un certo artista ha di rendere magari l'occhio la forma del volto la forma delle mani è quello che oggi chiamiamo il metodo morelliano che deriva proprio dalla sua attenzione e la cosa più curiosa devo dire è che all'interno della sua collezione di disegni che comprendeva soprattutto disegni di pittori ma erano disegni preparatori per la pittura perché a Morelli interessa fondamentalmente riconoscere ricreare il catalogo di Leonardo il catalogo di Raffaello il catalogo dei grandi pittori e quindi vuole cercare nel segno anche disegnato quelle caratteristiche che ritrova in pittura ma è ancora ben più curioso allora che si sia fornito che abbia raccolto delle caricature che come abbiamo detto sono disegni autonomi che non hanno un corrispettivo in pittura che è una tecnica che Tiepolo utilizza solo per queste cose quindi è una collezione da questo punto di vista devo dire straordinaria ma torno alla ragione per cui ho parlato dell'inizio della fortuna espositiva siamo a Milano siamo nel 1881 è appena aperto uno dei musei che oggi costituisce una delle eccellenze in città che è il Museo Pol di Pezzoli e viene organizzata un'esposizione con 400 disegni antichi quindi non la più importante fino a quel momento in Italia ma una delle più importanti fino a quel momento in tutta Europa 400 sono tantissimi sono pezzi che arrivano in grossa parte dalla collezione di Giovanni Morelli dalla collezione di questo Carlo Praier che stiamo cercando di ricostruire a fatica perché anche lei è interamente sparsa sul mercato e pochissimo musealizzata e di Giuseppe Bertini più 120 disegni del Museo dell'Arceve Scovado era un'esposizione è un'esposizione dalla portata enorme di cui non c'è il catalogo ma abbiamo una serie di articoli che Gustavo Frizzoni che è l'erede amico e allievo di Giovanni Morelli commenta in questi in queste righe attraverso una serie di articoli che sono apparsi sulla rivista L'Art che non vi ho detto è l'anno in cui queste opere arrivano ai musei civici di Milano arrivano nell'anno 1900 quindi è prestissimo Giovanni Morelli è morto nel 1891 e ha lasciato l'incarico al suo allievo appunto Frizzoni di donare una parte dei suoi disegni alle collezioni civiche purtroppo per chi conosce meglio le vicende Frizzoni ha scelto una parte dei disegni li ha destinati al mercato quindi non ci dona l'intera collezione però abbiamo più di 200 disegni di un livello qualitativo veramente straordinario e ci piace immaginare che tra i disegni esposti qui nel 1891 al museo Pol di Pezzoli ci fossero anche le quattro caricature che vi ho mostrato corrispondono solo in parte alla descrizione che fa Frizzoni lo vedete dove parla degli uomini gobbi anche perché a un certo momento corrisponde la tecnica della penna dell'acquerello il fatto che rappresentano cittadini veneziani ma poi parla anche di figure riunite in gruppi e quindi magari potrebbe riferirsi a disegni del Gian Domenico che non conosciamo l'inizio quindi le prime citazioni in un contesto importante di questi disegni sono nell'81 ma l'anno successivo nel 1882 Giovanni Morelli fa una una prima pubblicazione stiamo parlando di Elio Tipe quindi fotografie sensibilissime che è difficile oggi riuscire a trovare anche in biblioteca in buono stato in buone condizioni e pubblica delle selezioni dei suoi disegni tra cui questa di 40 disegni dove appaiono proprio le quattro caricature che vi ho mostrato e che potete ritrovare in mostra la cosa veramente interessante è il commento che anche in questo caso Gustavo Frizzoni scrive a margine di queste immagini in cui le commenta giustamente e mi limito pochi brevissimi segni perché mi rendo conto che siamo però guardate se no allora ci sono tanti dati interessanti che si evincono proprio da queste poche righe vedete i suoi disegni trovansi sparsi ormai ai 420 significa che già all'epoca c'è un mercato che sta fiorendo e è di dispersione insomma di questi fogli di questa collezione se non che nei 4 schizzacci che noi presentiamo e direi che lo definisce così in maniera assolutamente amorevole perché poi ne parla e insomma calcolate che qui Morelli all'epoca riteneva di avere Pontormo riteneva di avere Michelangelo riteneva di avere Raffaello e in questa selezione ci mette dentro ben 4 Tiepolo cioè questo per darvi la dimensione che su 40 pezzi erano già stimati come degli autentici capolavori infatti lo vedete scendendo quanta finezza d'osservazione in questi tocchi efficaci e sicuri si ravvisa l'unghia del leone che devo dire descrive perfettamente proprio la rapidità questo questo segno graffiante come vi dicevo prima in tutto i disegni che possediamo al gabinetto dei disegni di Milano oggi sono 8 4 hanno il marchio di Morelli e quindi sono appartenuti alla sua collezione ma questi 4 lo vedete per quanto siano montati alla stessa maniera su questi cartoncini grigi di cui non riusciamo veramente a stabilire l'epoca non presentano il marchio ma arrivano anche loro nel 1900 attraverso Frizzoni è presumibile che quindi appartenessero alla collezione di Frizzoni e non a quella di Morelli solo per la mancanza del timbro perché i veri collezionisti sostanzialmente in passato marchiavano tutto il possibile generalmente davanti e in basso quindi sono segni sempre ben riconoscibili anche qui abbiamo tre dei tipi maggiori dei tipi che corrispondono alle figure da lui preferite con l'eccezione vi dicevo dell'ultima quella con l'alone giallo che non solo non è in mostra ma che effettivamente è anche molto diversa dalle altre per il tipo di inchiostro lo vedete per il colore ma anche per le fattezze allora la differenza rispetto agli altri è stata spiegata con il fatto che questa potrebbe essere una caricatura di Gian Battista originale ma degli anni 40 quindi precedente precede quella libertà di segno quell'immediatezza che poi caratterizza insomma le opere successive qui vi ho rimesso una accanto all'altra le opere la Morelli e la Frizzoni quindi con e senza timbro ma lo vedete sono montate sulla stessa cosa sulla scia di quello che fa il maestro anche l'allievo cioè Gustavo Frizzoni si va formando una sua collezione evidentemente trovano questo nucleo di foglie e ne comprano un po' ciascuno e poi arriviamo qui quindi all'ultima immagine che che vi presento perché incarna bene tutta quella galleria di figure anche se voglio concludere con una citazione di quello che secondo me è come dire la più illuminata lettura che è stata fatta fino ad oggi della caricatura di Tiepolo l'ho ripresa chiaramente una cosa che non ho avuto modo di dirvi questa mostra è veramente qualcosa di straordinario anche perché contestualizza la produzione dei Tiepolo in un discorso che comincia nel 400 comincia nel 500 e poi va avanti fino al 900 ma qui a Venezia avevate avuto la fortuna nel 2004 di avere questa grande mostra sui Tiepolo che avevano proprio messo in evidenza e raccolto anche moltissime delle caricature quindi qui ho ritrovato questa citazione di un brano di un passaggio del 1983 che però vorrei leggere con voi perché io credo che non ci siano parole migliori per concludere con una visione di insieme l'attività di Tiepolo maggiore più che costituire uno sfogo in margine alla produzione aulica è complementare a quest'ultima come l'intermezzo farsesco può esserlo al dramma eroico il potere trasfigurante dell'immaginazione si manifesta sia esaltando che degradando l'immagine l'arte è capace di elogio come di scherno evoca angeli e nanerottoli provoca la commozione e il riso e rivela infine nell'implacabile verità della sua luce la grande finzione di tutto inoltre le caricature di Giambattista sono per lo più isolate e rappresentano tipi e caratteri universali della fauna umana il grasso il magro il frate gaudente il vecchio bisbetico vi è assente l'intento satirico cioè il proposito di castigare ridendo la violenza della deformazione esalta la superiorità dell'arte sulla natura anche in relazione al brutto il fine è dimostrare che esiste pure una bellezza nella deformità e con queste parole che sono praticamente perfette una sintesi eccezionale io chiuderei la mia carrellata di oggi ringraziandovi ancora per l'attenzione e per la pazienza chiaramente se qualcuno di voi avesse qualche domanda più magari legata agli aspetti di cui mi sento mi sento di conoscere meglio volentieri posso dare delle risposte anche se come vi dicevo appartengo a quella categoria di storico dell'arte che con grande prudenza ama raccogliere tanti colleghi intorno a un tavolo discutere delle diverse ipotesi e poi magari fermarci a livello dell'ipotesi perché non abbiamo una risposta grazie a tutti giustamente vi lascio con la slide dei prossimi appuntamenti se non ci sono domande trovate tutte le risposte nello splendido catalogo della mostra grazie a tutti